Uno dei peggiori degli ultimi tempi, perché di ride notturni nel mercato di via Fapani a Mestre ce ne sono di continuo e i commercianti non ce la fanno più, sono a dir poco esasperati. Hanno aperto il rotolante, hanno segato il rotolante, hanno levato perché se è a corrente il rotolante, sono rientrati, hanno portato via tutto, prosciutti cotti, prosciutti crudi, carne, ha fatto un danno su 5 mila euro. Questi sono quasi professionisti del furto, perché va sui macellerie, sui ristoranti, porta via tutto, professionisti delinquenti proprio. È all'ordine del giorno, ormai non ci miravamo più di niente, tutte le settimane, furti, prima ci partivano le monetine, adesso vanno direttamente al pesce, tra il pesce e il congelato, per cui è tutti i giorni così. In un anno le denunce alle forze dell'ordine hanno superato il centinaio e non sono nemmeno tutte, dal momento che c'è chi si è rassegnato, ma la voglia di combattere è ancora tanta. Noi viviamo, abbiamo famiglie da mantenere, non possiamo permetterci l'uso di farci delubare tutti i giorni, non proprio basta, deve farla finita. I ladri hanno agito indisturbati per ore, senza che nessuno intervenisse. Cosa devo raviarmi? Con il sindaco che aveva 60 persone, hanno preso 60 persone perché avevamo essere criminali qua in Mestre, ma non se ne vede uno, due, guardi, tre, quattro. Dove sono i 60 persone che dovevano fare qua notturna e roba? 60 persone il sindaco, più vedere i carvinieri e più a poesia. E che lavora tre, quattro ore per fare il furto, nessuno ne ha visto niente. Il controllo che si guarda fuori e qua dentro viene qua per il canale, entra dietro, poi in alto è semplice entrare. Per questo i commercianti hanno deciso di organizzarsi da soli. Adesso ci stiamo armando con dei vigilanti, perché non ci sono più, noi non ci fidiamo più la notte di lasciare la roba qua nel mercato. Li pagheremo di tasca nostra, non chiediamo niente a nessuno, ma perlomeno che siano sicuri. Perché qui comunque ci vivono persone con famiglia, io ho due bambini a mantenere sinceramente, se vengono tutti i giorni a derubarmi, tanto vale che chiudo e sono a posto così. Però dopo non vado più dal sindaco a chiedere i soldi. Sono stufo io qua a chiedere i soldi, chiede teloni rotti, tapparella rotta, tende rotte, tutti i giorni così. Basta. Io sono uno dei tanti, con i miei colleghi, frutta, pesce, carne che vengono derubati, però basta, deve essere finita. Devono essere presi e che sia l'ultima volta questa, perché noi siamo stufi. Vi sto sicuro che non sarà così, ma...